ma va eh si ma neanche è letteralmente appoggiato bene poi c'è sotto tutto quel cosa qua sembra cemento davvero eh però sono qua in un posto stupido cacchio pazzo eh così c'è forte è un'autostrada quello farlo qua devi saltarci fino a di là perché se no devi andare di là eh mi fa sbilanciare però è bello da qua vai in mezzo Ale eh Fausto secondo me sta in mezzo eh che è secondo me ma va sta in mezzo senza andare sui sassi secondo me è meglio di là cioè guarda che sfiga oh tutto il posto di sassi che c'è nella falta è uguale se vedi qua o di là bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.